Oggi abbiamo una grande occasione che riguarda in primo luogo il campo progressista fanese ed è quello di attivare un grande processo di partecipazione aperto, inclusivo, democratico che possa coinvolgere migliaia di cittadini e cittadini rimettendo a loro la scelta delle idee, dei programmi e anche dei candidati che meglio potranno interpretare, rappresentare e guidare il centro-sinistra alle prossime elezioni amministrative. Per questo è importante convocare il prima possibile elezioni primarie e costruire anche una nuova stagione di partecipazione in cui tutte e tutti possono dare il proprio contributo e cui insieme tutte le donne, gli uomini del centro-sinistra e del mondo progressista di questa città siano in grado non solo di scrivere una nuova stagione politica ma anche veramente una nuova pagina di storia per la nostra comunità. I tempi sono maturi e alcune scelte vanno fatte. Oggi, non domani. Grazie. 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 Grazie.